non so se ci siamo ci siamo non ci siamo non ci siamo non ci siamo non ci siamo però di qua non posso vedere ah sì posso vederlo ma non me lo fa vedere che dispiacevole situazione io però tutte le volte non posso dover cambiare il mio setup no, troppo alto ok e questo microfono è troppo distante allora ciao zuffolo cos'è? non ne ho idea non ne ho idea non lo so non lo so scusate però non mi fa vedere non mi fa vedere le faccende perché non mi fa vedere ciò che mi serve? perché non mi dà le informazioni che io necessito? perché sono offline soprattutto? sono offline mi stai mentendo stupido twitch no ok non può funzionare va bene però qui continua a insistere sul fatto che io sia offline ma io non sono offline sono quasi certo di non essere offline non sono offline vero? sennò questa è una situazione incredibilmente imbarazzante non lo sapremo mai non sta andando niente qua allora allora io non ho idea di cosa quale periferica bisogna usare ma spero che si possa usare il joypads ma perché non va in cacchio scusa e se io provo a usare google e cerco e cerco sederi e google non va naturalmente forse devo fare così così e adesso ah ok ero era l'altro computer che non collaborava questo spiega molte cose questo spiega davvero molte cose ciao bleco ok sta vibrando tutto opzioni perché sta vibrando tutto sono sta vibrando un casino ma un casino che non ce n'avete idea sono un po' spaventato amici voi non potete provare anzi ve lo metto sul tavolo così sentite non è un joypad è una lavatrice non so non so come reagire a questa cosa ma proviamo ad andare avanti col joystick e vediamo dove questa cosa ci porta ok ah no aspetta ferma 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 tutto che vuol dire icona icona ma me la me la perché si droga scusa scusa se io le metto in inglese ci sono i sottotitoli ok ok Un anno hanno cambiato la formula o qualcosa, e lo arruinarono. Ok! Ehm... Hey, ancora con noi? Tu non hai detto qualcosa per circa 10 minuti? Ehm... I'm listening. I can watch the hypnotic rolling of the waves and listen to you at the same time. Oh, ok. What did I say? Little miss, I can see and hear things at the same time. Something something cookies. Perfetto! Tu sei proprio per l'argento! Ehm... No, no, non davvero. Ho paura per la mia vita. E come la mia mamma mette il tuo papà esattamente? Si mette a vacazione in Orlando. Si è perduto in una... In realtà, non ne ho mai dire questa storia. E' veramente non valutato. Ok. No, aspetta, cosa è successo? Mi sento che non ho mai sentito questo. Si è perduto in alcuni sardini e pensava che si lavorasse qui e... E bla bla bla... E si è perduto. Oh... Quanta trama! Mi sta... Mi alzo, non voglio stare nella stessa stanza dove sono loro. Ehm... Ehm... Secondo cusin? Just some guy? Ehm... 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 Didolti acc Bene. Ehm, come sai? Sono sempre giocati. Oh, oh, dovremmo trovare una foto rapida. Tutti noi. Questo sarà come una foto prima. Sono in giro. È bene, guarda la camera. Non sembra che sia la mia fresca. È vero, Jonas. Questo sarà il mio salice. Solo per la calabrazione. E' Jonas? Non Jonah? Sì, Jonas. Come Jonas Salk? Certo? Patient Zero. L'AIDS. È, ehm, biblico, certo? O è il ragazzo? Credo che ogni nome è biblico. Quindi, probabilmente. Ecco. Ehm, dove dovevo mettermi? Così? Ah, così. Va bene. Mi fido. Alex, hai portato il radio, certo? Il piccolo portabile? Eh, ovviamente. Perfetto. Puoi portarlo un secondo? Eh, parla del pene. Oh, ho smesso di vibrare. Grazie al cielo. Il popolo ha parlato. Soprattutto tu, Zuffolo. che mi dici di mettere in italiano? Davvero? Ma... Oh, in realtà, è un po' dopo 10 o'clock, che significa che il mio amico amico, Wren, e i miei amici, probabilmente, si trattano solo sull'islanda edwards per l'annuale basso sulla piazza, o quello che si chiamano. Ma comunque, ho promesso di lui che giocare una canzone da sua band. Quindi, spero che stai ascoltando, Wren. Sì, sono i piedi di rosso con i bambini carrioli. Bambini carrioli? Ma l'ho spetta così! Sì, è vero. Spero che Cristina, con la sua giudizio di talent show, era ascoltando. Devono essere vicini. Non c'è una radeo di ricezione sulla isla. Sì, è felice che ho potuto ascoltare prima che si si trattaa totalmente a casa. Se non lo usiamo, perché lo porti? Non solo per il pene. Eh, no. Vi vedrai. Non ci aspettavo molto, ma no, sarà divertente. Non lo faccio. Vi vedrai. Eh, vabbè, Zuffolo. Non è tutto girato intorno a te, eh. Ma quella che carini. Va bene, noi abbiamo i capelli blu. Ok. Non sono qui per giudicare. Va bene. Sono uno dalla mente aperta. Ok. Va bene. È vero. Ha ragione lui. Ma non è un po' troppo. No, non è un po' troppo. Oh, eh, no, grazie. Non c'è. La prima volta che ho avuto, non si è bene. No, non c'è. Non c'è cosa c'era la tua corpo in quanto riguarda la tua vita. Ma non c'è la tua città. Oh. Vabbè, vabbè Vabbè che me lo vado a limonare Sì, bravo Cosa voglio dire i fumetti quelli lì? Va bene Vabbè 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 Va bene Ok Va bene Va bene Va bene D'accordo È... 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 Ma la quiche non era quella che si mangiava? Quella cosa la francese? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? 102.3 I think they said it's 102 Named after the Hawaiian God of the sea, the USS Kanaloa was launched on January 15th 1941, and commissioned into service at the end of that year I've never heard of this before Kinda creepy in a way, right? non ho capito cosa mi sta rappresentando questa statua non riesco a capire c'è un'aquila sopra un ancora che in realtà è una balena ok aspettate però metto questa qui almeno non taglia i sottotitoli ok giusto ha senso e vediamo dove va a parare questa cosa sembra un sacco di trama anzi la mettiamo di qua almeno il signor t è contento che così non sembra che sto guardando il vuoto al di là dello schermo meglio meglio peggio che risponare che risponare che risponare che risponare Ciao ragazzi, i altri ragazzi e ragazzi dovrebbero essere più oltre, quindi fai rapidi ora. Ok, la definizione di Edward's Island. Questo è un'attività di turistica con i lavori e una piazza. Nessuno vive qui, excepto di un nome geriatrico di Mrs. Adler. Ma come la mia mia notizia, non vi mai mai mentioni ognuno di lui ognuno di un altro uomo di nuovo. Siamo qui per drinkare e essere stupiti. Una tradizione che apparello iniziato da ricordati in 1950. Che ne sono state date da costalte. Lì, praticamente, chiamavano trallare. Wow, in realtà è abbastanza divertente. Sì, è come i ragazzi a campi, o qualcosa. Quindi, per raccomandare, non siamo permesso qui dopo la scuola. La città è fermata, e noi, la classe di Camino High, abbiamo venuto a comitare impropi attori. E l'altra cosa... ... sono le Caves di Weirdo. Caves di Weirdo. La reasona che Alex ha portato la radio è perché quando vai a la... ... è come la fronte. La mouth. Ah! Oh! Spooky poopy! Oh! Oh! Sì, quindi... ... non so da chi hai ascoltato, ma non... ... non davvero. Allora, beh... ... è bello, credo. Io solo... ... se ti pensi di lasciare, io solo spero di farlo per le ragazze. E' tutto. E' tutto il mio spielo. Friend, perché nemmeno importa questo? Oh, non lo so, magari perché sei il mio amico? Sì, in effetti. Anche lo stupido da chi. Quindi, sì... ... non vado. Oh, Ren. Ohhhh... ... limoniano, limoniano, limoniano. Ok, 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 ok. Ohhhh... Vero. Però questo gioco è di tizi che parlano, evidentemente. ... va bene, quindi noi dobbiamo andare alle Spooky Poopy Caverns. Ok. Andiamo alle Spooky Poopy Caverns. ... ma non è... ... non può essere troppo difficile. Oh, perfetto. Beh, aspettate un minuto e lasciami pensare. Ma come aspettate un minuto? Allora, intanto sbircio in giro, eh? Ah no, forse devo fare così? Penso che il dumpster ci avrà avuto, se... ... ci avrà... ... sbagliato. Beh, proviamo. ... ma questo mi sta compenetrando. Un po' indiscreto. Se lo lasci dire. Ok, basta. Ah no. Vai sugli scogli. Yeeeh, compenetrazioni. Yeeeh, my favorite. ... Allora... ... vorrei... vorrei... vorrei parlare di quello. Oh, chi è questo? Quindi c'è questa ragazza, Nona. È solo questa ragazza e sono totalmente a lei. E voglio che sia a lei. Quindi, vedi, 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 vedi. Ok? Non sbagliare o sbagliare o qualsiasi, ok? Perchè? Perché non sarebbe? Non sarebbe come... come puoi essere a volte. Ok, ok, Jonas. Ora che siamo amici amici, che era quello che hai detto ad Alex? Hai una delle storie vestigiali o qualcosa? Solo lasciatelo solo, Ren, ok? Non devi ascoltare tutto. Raginaldo, sento tu qua qua. Ehi, ragazzi. Guarda, ho detto... Stavo a raccontare una storia, cosa era? C'era il caro di Brad? Oh, beh, questo può aspettare. Ehi. Abbiamo iniziato un foglio fuori, ma Nona voleva giocare di nonna, quindi... Eh, sì. Ciao. Ciao. E Jonas, chi sei tu? Jonas. Sì, è Jonas. Lui è Alex's new... Ma sì, lui è Jonas. Perché non lo conosci, Jonas? Sì, lo so. È un viaggio, certo? Sì, è un ragazzo freddo. Sì, è un ragazzo freddo, quindi... Allora proviamo a mostrargli un buon tempo. Eh, solo la piazza e qualche birra sarà sufficiente, sicuro. Sì, sì, sì. Sì, sei Jonas. Jonas, il ragazzo. Sì. Ehm... Cosa vuol dire? Ehm... Cosa vuol dire? Ehm... 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 Questa o muore... O muore. E se non muore... La uccido io. Va bene. Va bene. Let's do this. Yeay! E non ho ancora capito se il fumetto è una cosa buona o una cosa cattiva. Vuol dire Alex si ricorderà di questo? No, Alex sono io. Lui com'è che si chiama? Non me lo ricordo già più. Com'è che ti chiami? Tu. Dove stanno andando? Andiamo! Era da spintono sta stronza. Ah, non è la stronza, è quella rossa la stronza. La testa stronzetta. Vieni qua. Vieni qua. Madonna ti ammazzo. Madonna sei t'ammazzo. Guarda come corri tutta brutta per la stronzetta. Be gone beach! Woo! You know what time it is? It's Pepsi time! Bebiamo! Woooo! We cerveviamo! Wuuu! We cerveviamo! Wuuu! Qui vivono a Capitari? Wow, come si vivono a Capitari? Oh, come si vivono a Capitari? Noi, non non, non, non… Noi, non, non, non… che è la stessa cosa che ho detto io ah se qualcuno può provare che hai l'occuratore si può provare che hai l'occuratore ti è un gioco... ...che vedere che hai l'occuratore come puoi provare che hai l'occuratore? ho detto, rumore, conoscenza... ...che le cose ok, adesso andiamo a andare ok quindi prima vabbiamo Renn vabbè Vuoi testare la merce? La odio. Clarissa mi sta sulle palle. Uh oh. Why? What? It's funny, I don't know. And Jonas is family now, technically, so he's excluded. Well, I'd marry Nona. I like the quiet types. I'm flattered, I think. Okay, you're going down the line. Who'd you do the dirty bit? I'd do Ren. We know each other the best, so it'd be, like, less weird. And you're in a band. Yeah, I knew those bass lessons would come in handy. Which, of course, means that you'd strangle Clarissa in intersleep if you had a chance. What a shocker. Oh, yeah. Sorry, it just worked out that way, I swear. Yes, I mean, why would we have any control over the words and thoughts coming out of your face? Hey now, you can't control the sneeze. And I think this falls into the realm of function. So, Alex's turn? Yes, ladies choice. Alex gets to pick who to ask something of. Oh great, here we go. What's your favorite stuffed animal? Professor Snodgrass? Oh boy. Yes, mom? This is pretty fun just watching all the news. Do you like anyone? Like, like, like anyone? There's no one in school worth liking now. Come on, Alex. So, no, I don't. But nice try. Clarissa's turn now. Alex, you got a new brother, pretty exciting. I'm sure Jonas is excited or maybe... Excited isn't the right word. Maybe a little overwhelmed with just everything, you know? Unsure. It's a lot to take in and adjust to. I'm... What's your point, Clarissa? I'm just saying what Jonas is already thinking. That statistics show, if you get divorced once, you're probably gonna get divorced again. And the fact is, your mom divorced your dad. So, let's put his mind at ease and hear why. Okay, just get to whatever point this is getting to. The point is, why do your parents get a divorce? Just so Jonas can hear it from you. Clarissa, I don't really care why they got a divorce. Just that Alex's mom is happy. They had... It was just issues. Like any other marriage and they just couldn't get past theirs. That's complete crap. I know you know why. Specifically why. Just come out with it. Go to hell. That's my answer. Happy? Yeah, I won the turn. Of course I'm happy. Alright, you know what? Let's just stop the game, okay? I think everyone's ready to do something else. Wait, let's... Let's not stop like this. We should... Game's over, Ren. I won. And to celebrate, I'm gonna sit on the beach and drink. And maybe, if I'm feeling spicy, even take a nap. And maybe we can get out exactly what no one's gonna do too. Fine. Whatever. Be Miss Poudy on the beach all night if you want. I'm not gonna let you ruin this for me. I appreciate your permission to be Poudy. Thank you. Cheese! If you guys in your scavenger hunt or playing Ring Around the Rosie happen to find anything more interesting than a slowly dying starfish, You should be sure to just let me know. Super. Super. Sure, we'll grab you if we find any... Island Bigfoots? Island Bigfoots. Exactly. Well, I want to inaugurate this bitch by checking out the caves. No, no, do you want to come? Uh, I mean, I would, but... I'm very clingy, Ren. Fine. Jonas, you're a strapping young lad. Help me over the fence. The cave is just, uh, yonder. And I guess you expect me to just jump over after? But like I said, you're strapping young lad. Heh. Okay, come on. Where are you from again? It's a small town near North Valley. Oh, yeah. Is it nice? If you like bars or something like us. Come on. Come on. Come on. Alex, do you want to check out the caves or...? Yeah. Let's do it. Come on. Come on. Come on. Come on. I'll push you over. Oh. What happened? What happened? What happened? On a scale of 1 to 10, how weird is it going to be? It's Wren. So, definitely 10. He gets excited easily, but... He has the concentration of a goldfish. The fact that he keeps demanding we see it must mean something. Heh. All right. Let's go. Chris seems to be her normal annoying self. Sorry about that. Eh, it's not your fault. I think somebody dumped pig blood on her in a previous life, and now she just wants to get ahead of the caramel. Yeah, probably. Thanks for, uh, not ratting me out to Nona during the, uh, the game. I didn't think you would, but, you know, you could've and you didn't. So, thanks. Well, yeah, I mean, I wouldn't throw you in the deep end or anything. Not like a certain person who yelled at Andrew Finnegan about a certain junior high dance right in the middle of gym class. That was a joke. And he agreed. So, no regrets. Now, who's ready to have their minds blown? If you don't mean that literally, I am... Me, me, me. Oh, wait. Actually... I almost forgot. Gonna take a little magic trip to Cupcake Town. Those... Look like brownies. Brownie Town. Oh, you're the only one? Give me. Oh, no. These are just for me. But look, I don't offer. Yeah. Maybe it's best he's the test balloon for this anyway. Va bene. Hmm. Delicious. Okay, so, see these little piles of rocks? The kids before us always leave them here, so you know where to try and tune in the signals. Okay. Let's do this. Basically, right around here. And just tune the dial left or right until you start hearing some weirdness. How will we know when it's... You'll know. Trust me. So, just pull out your radio. Oh, my God. Holy crap. Wow, it's even cooler than I thought it would be. This... What? Is it? What's doing it? Maybe the tuning is like unblocking a weather balloon or something? It doesn't make any sense. Well, it's just crazy, then. Because I don't know. If you move around, it kind of changes, too. I think. Like... Over at this pipe. Here, come over here and try it. And there's nothing... Oh. This is so cool. I know. Clarissa and Nona should see this, right? I mean, I know it's like weird with you guys or whatever for some reason, but... They're fine where they are. Ok, ma cosa è una problematica di Clarissa con te due? Il problema è che lei è un monstero che non può aiutare ai monsteringi a noi. Clarissa ha incontrato a lui abogli a lui Mike per un po' di tempo, in quel tempo. Quali, non mi piace mai. Non anche allora. Sono sempre la mia amica che si è arrivata in la scena, che si è andato a scendere a le finestre. Clarissa è la persona che non si sente più piena, se non si sente più ognuno. Ah, si scopre l'aluare. Sei... ok? Penso che. Ora, c'è un altro posto cool, penso qui. Eh, ma è l'unico... Ah, sembra così... Sì, sembra... Uh... ...satanico. Non ciò che volevo dire. Ma, troppo. Ah! Eh! Si attiva così senza la radio? Andiamo a toccarlo. Questo va a sembra stupido, ma... C'è qualcosa qui dentro. Non ciò che volevo toccarlo. No, vedo anche. C'è sicuro che c'è qualcosa dentro. Come... ...un giovane ragazzo, o... ...un maniaco che prende manikin wigs. O... ...c'è sembra come un pollo o qualcosa. Come un'acqua fresca, magari. Vediamo. Non è così vicino. Uh... Sì, ho questa cosa... ...e' sbagliare in stranze... ...durre i miei luci... ...che potrebbero scavare in ogni momento? Non ciò che... Sì, posso vedere da qui. Non è così vicino. Siamo in e fuori. In e fuori. In e fuori. La fortuna favorita i bambini. Jonas! Non! Beh, io... ...erò solo restare qui. Perché... ...e' sbagliato... ...e' sbagliato... ...la magia... ...Vabbè, lui è... ...partito... ...per la grande... ...landa... ...dei... ...dei... ...drogati... ...allucinati. In e out Amici vi vedo poco presi da questo gioco Vi sta annoiando? C'è... Però è carino Carino, sembra carino È tutto spooky poopy Spooker pooper Ah, devo scendere Ho sbagliato tasto Bleco, ma tu conosci tutti i giochi dell'universo? A tizio piace infilarsi in luoghi bui e umidi Ok, cosa abbiamo trovato qui? Divertiti Scusa, quale dei due sarebbe la penna? Non vedo nessuna penna Dico, non si va Non vedo nessuna penna Tra un'altra cosa su un'altra penna Sì, avrò Sì Non vedo nessuna penna No, non vedo nessuna penna Non vedo nessuna penna Ma non vedo nessuna penna Sì, non vedo nessuna penna No vedo nessuna penna Sì, avrò